Blur Song 2 alle 7.32 minuti, grazie anche dei messaggi che stanno arrivando al 331-7853-555 come ad esempio quello di Adriana che dice Buongiorno Fabio, il fatto che le hanno rubato la tenda è anche proprio il colmo si parliamo ancora di Ilaria Lameria che appunto è stata derubata anche della tenda che avevo usato per stare fuori dal Politecnico con tutti gli altri e si insomma questa è quella stramba città in cui viviamo stessa città in cui ci sono anche tanti eventi a cui qualcuno che conosco bene non andrebbe Gli eventi della settimana a cui non andrei E non ci vai neanche con la tua voce, cosa è successo? Eh, mi sono appena svegliata Benissimo, benissimo Buongiorno Eribi, buongiorno Buongiorno a tutti, siete le prime persone con cui parlo questa mattina Ah, perché di solito con chi parli? In casa parlo da sola Ah, ok, perfetto E per gli amici della mia testa Ah, benissimo, sei affollatissima immagino Ah, che bello, finalmente venerdì Sì Allora, in queste settimane abbiamo vissuto più venerdì e più lunedì e questa cosa ci ha scompensati tutti È veramente una cosa brutta Anche lui ha attaccato l'accia, ieri era lunedì, oggi è venerdì No, ieri è stata giornata pessima, ieri era lunedì, oggi è venerdì Cioè veramente Cioè veramente, boh, vabbè Peggio di quando si cambia l'OA Non me ne parlare che quella lì è una roba che mi disturba tantissimo Si cambia di sabato Quest'anno era arrabbiatissima perché era il giorno di Pasqua Vabbè, comunque, ragazzi, mi hanno detto di fare abbastanza veloce quest'oggi No, sì, abbiamo un ospite dopo Ah, ok, quindi è, come dire, ha più tempo l'altro ospite rispetto a me Ovviamente Va bene, allora, vi dirò degli eventi a cui io non andrò Ah, prima di tutto c'è la festa di Cusago Beh, no, no, la festa di Cusago al castello, l'ho vista, sì, ho visto anche la Locandina Perché sai che io sono un Cusagese adottivo, lo sai, no? Sì, sì, lo so, lo so Ho fatto le scuole media a Cusago Esatto, non si capisce come mai Ma soprattutto Perché c'era informatica Ah, vabbè Per quello Ah, era uno sperimentale E nel 91 non c'erano molte scuole di informatica Era uno sperimentale Ok, come io ho fatto le scuole superiori con due lingue Io ho visto tre volte il computer in tre anni Una volta all'anno Grande, grandissima Ma tu all'elementare usavi il computer? No, non c'erano, non esistevano Eh, io invece ho fatto in tempo a fare informatica Cioè, lo usavo a casa mia Lo usavo a casa mia Ecco, io l'ho Ma comunque ho fatto in tempo a fare informatica all'elementare No, l'ho fatta nel 1986 Era una roba tipo pur parler Cosa facciamo oggi, bambini? Andiamo a vedere il computer No, no, l'86 Avevo già il comodo 64 a casa Ma non avevo il computer a scuola Vabbè, lasciamo perdere voi borghesi Vabbè Comunque, sapete perché non vado alla festa di Cusago? Perché? Perché c'è il Luna Park Ah Il 3, il 4, il 5 Quindi inizia oggi Sta Meloniera Potete andare C'è anche del cibo, come sempre E quindi va bene così Per rimanere in zona di feste Ma completamente in un'altra zona Se il tempo regge Almeno questa è la mia speranza per voi C'è la notte bianca nel Parco Sempione Ho delle amiche che sono infognate male del Parco Sempione Saranno contentissime del fatto che ci sarà una festa Viste panoramiche dalla Torre Branca E aperitivi Questo sia sabato che domenica Una roba interessante, vero? Esiste qua il bar bianco all'interno del Parco Sempione? Penso proprio di sì Poi Con che cosa vuoi che vada avanti? Con quello che hai seguito sul tuo quadernino Ho scritto in maniera In modo di informatica vedo Proprio il foglio elettronico Io sono onologica Allora C'è una roba che piacerà tantissimi di voi Pokémon gioca e scambia Conosco gente invasatissima anche di questo Sia sabato che domenica Con orari non ho capito perché Appuntamento alle 15, 16 e 17 Ma o 15 o 16 o 17 In Mondadori Duomo Milano avviene questa roba Perché ci saranno i momenti di scambio molto probabilmente Mi viene un'ansia al pensiero Non so bene come funzioni Ma nel senso C'è il gruppo delle 15 Il gruppo delle 16 Il gruppo delle 17 A me viene un'ansia al pensiero Che non potete neanche capire Non so perché Non so perché ieri Quando ho letto questa roba Ho detto Madonna che ansia Ma perché? Non so perché mi sono immaginato Un capannello di gente Ti dà questo Tu dai questo Tu dai questo Non so come avvengono Come se fosse un pochettino di contrabbando Ma non si fa Alla montadora in piazza del Duomo Da dove è che è? Sì sì Poi dopo si spostano in Rizzoli A un certo orario Non ho capito perché Alla Rizzoli Allora Poi c'è una roba La notizia è che c'è ancora in Rizzoli Eh boh Forse sì Un'altra roba Domani è il 4 maggio Sì Star Wars Ah è made of first Esatto Quindi c'è L'impero compisce ancora il concerto Bello Tra l'altro non ho scritto dove Come? Tanto che mi interessava Allora io ho visto Star Wars Trovo che sia pesantissimo Però so che c'è All'Archimbold All'Archimbold Infatti voglio dire C'è un sacco di gente infognata 4 e 5 maggio 4 e 5 maggio C'è il concerto Dell'impero Colpisce ancora Bello Cavolo Vuoi andarci? Bah 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 Bello No beh insomma C'è tutto il La mele nera Concerto Sì il concerto L'orchestra Che fa tutte le musiche Dal Prese Sono tre spettacoli Sabato e due domeniche C'è uno sabato e due domeniche Che bello Poi Allora C'è questa cosa Mi piacerebbe conoscere qualcuno Che ci va Magari Non costa neanche tanto Cioè i posti super super fighi Costa 78 euro Cioè non è tanto per un concerto Scusa mi è venuta in mente una canzoncina Posso? Vai Super 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 Girl Che bello Non lo so se non è l'età Però fa niente Fa niente Adesso Danna ha anche una certa età E nanna ha anche una certa età Comunque A Milano Viene fatta la stecca 3 Che immagino sia la stecca dentro In isola Sì Il primo festival sulla genitorialità Beh Cosa ti piace? Questo è proprio il tuo 4-5 maggio Però mi piacerebbe che qualcuno ci andasse Oh nanna Che tenera Nessuno di voi si ricorderà di questo cartone animato No Te lo lascio sotto allora Sì lasciamelo sotto Però potrei mettermi a piangere Comunque c'è il festival sulla genitorialità Ti piacerebbe andarci? Da ascoltatore? Sì Che tenerezza Con i capelli verdi aveva Era bellissima Tra l'altro Un bel personaggio Che senso Nel senso che rispettava i canoni Di gusto Di chi l'ha disegnata Ok 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 Ecco il ritornello Giusto vedi Nella che non ha età Non ce l'ho preso Ma ce l'ho preso Ma ce l'ho preso Ma ce l'ho preso Comunque c'è il festival della genitorialità Io vorrei tantissimo E faccio un appello Che qualcuno ci vada E poi ci racconti di che cosa si è parlato Di che cosa? Di figli Anzi dell'essere genitori Si ma magari in una chiave diversa La chiave moderna Cioè adottarli Venderli Non lo so Cioè in che senso Scambiarli È come lo scambio È come lo scambio Del pokémon Stai che hai pestato un terreno minato Non lo so Hai capito Che cosa mi fai Come una chiave moderna Non lo so Ma fa niente Vi prego andateci Grazie Magari veramente Come quello di pokémon Si scambiano i fili Io dico Non credo Ce ne ho due Non credo Intanto è stato leggero Perché non ci vedo Ok Poi scopri in sup I navigli di Milano Il 5 maggio Associazione Nazionale Marinale d'Italia Eh sì sì Sono stati qua La settimana scorsa Cioè Ma sai che paura Vabbè sono marinale d'Italia Ah io avrei paurissima Di una cosa Non tanto di stare Sulla tavola del sup Che molto probabilmente Una volta che impari Impari Insomma E che se arriva una barchetta Ti butta giù E finisci nell'acqua Capito Tanto è bassa L'acqua di naviglio In questo periodo No ma non è per quello È anche pulita È che fa schifo Ma va È pulita Se non fosse per i carri Della spesa Buttati dentro Sarà più pulita Biciclette Ennesimo biciclette Poi ho scritto Con riserva Perché con riserva Perché in realtà Questo mi piacerebbe Allora L'ospedale dei Marchi E il Policlinico Ho scoperto Che da qualche anno Organizzano una roba Molto interessante Che è Giocami Giocami Sì È il festival Del gioco da tavolo Bello Però ho detto Mi piacerebbe andare Perché è una cosa Che mi piace fare Ma poi Sei quanti nerd Che ci saranno E tu tra quelli Perché No io non sono nerd Comunque Dalle 10 alle 18 Non so dove Non so dove Raga le ho fatti veloce Ieri queste cose Però ne ho fatti tanti Sì infatti Infatti magari Posso andare meno Ma più Più Ma meno Capito Allora vi dico l'ultimo Perché è molto bello Il titolo Ed è Bagno sonoro Di campane Tibetane Per la pulizia E riallineamento Dei chakra Eh Tu li hai puliti I tuoi chakra No perché non sono andata A questo evento Il 5 di maggio Che è nel futuro Eh ok Quindi andrei Io non ci andrò Andrei a pulirti I chakra No Poi posso dire una roba Il rumore delle Campane di vedamento È un po' fastidio Ma ti ha fastidio tutto Comunque Mi compenso invece Adriana ci scrive Bello questo festival Da genitorialità Non ho capito A quale si riferisse A dei vari festival Di cui stava parlando Ho detto soltanto Quello No la campane Tibetane non credo No no Ho detto soltanto All giocami No secondo me è il giocami Infatti secondo me Parla di giochi da tavolo Dai Ma non lo so Comunque Allora vorrei tanto Che qualcuno di voi Andasse quantomeno Al genitorialità festival Perché mi piacerebbe Sapere di che cosa Si parla E in che chiave Viene visto Ok Ok Va bene Va bene Domanda velocissima Non puoi andarci tu No no Io non sono genitore Che mi cacciano subito Non credo sia chiuso Signora Lei è genitore Devi portare i figli Sennò ti mandano via Devi portare le giustificazioni Oh mi chiede in prestito Un figlio Col culo Vedi Vai qua dei pokemon Prendi un figlio E lo porti lì Comunque Adriana Si ci conferma Che ha fatto il festival Dei giochi 331 78 53 555 Grazie mille Grazie a voi Per avermi dato questo spazio Come sempre E vi auguro Una buona giornata E speriamo che il tempo Quest'oggi sia clemente Ecco Benissimo Grazie mille Aeri B Con la sua rubrica Che ritroviamo Settimana prossima Appunto venerdì prossimo Sempre qui in diretta Con gli eventi Settimana a cui non andrà Settimana prossima Siamo in piena Civil Week Quindi avrai un miliardo E mezzo di eventi Tra cui riprende Neanche questi farò Perché sono tutta Settimana occupata Ecco benissimo Benissimo Anche questi Va bene Andiamo avanti con la musica I Wham Con Wake me up Before you go go Quindi alziamo Una delle mie canzoni preferite Alla delle mie canzoni preferite